Una volta salutata la Juventus, dopo essere stato capitano e leader assoluto, Pinturicchio ha dimostrato di non avere perclusione nell'accettare proposte anche singolari dall'estero. La leggenda bianconera, infatti, ha prima giocato in Austria tra le file del Disney FC per poi cedere alle corte di Namos sbarcando così nel campionato indiano. Sembra proprio che Del Piero, oggi, 48enne, sia pronto a vivere un'esperienza da dirigente con poteri operativi all'Air Nurse. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!